Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuovissima puntata di Robocraft E come al solito noi costruiamo elicotteri, costruiamo aerei O almeno diciamo come costruire un aereo E c'è un aggiornamento anti-aereo Sì, hanno inserito la nuova arma, un'arma anti-aerea Come funziona in pratica un spara dei raggi tipo gli SMG Per farvi capire E solo nel caso sia un colpinare sciacco verso un aereo Quella cosa esplode come un colpo del plasma, diciamo dei plasma bomber Diciamo così L'ho costruita e scriviamo anti-aereo plus Così, tanto per plus E ancora non l'ho provata in gamer L'ho costruita molto semplicemente Ho fatto una cosa con le ruote Ne ho piazzate due Perché queste qui costano un botto Vi voglio far vedere Ogni pezzo di questo, se lo vogliamo comprare Costa l'ira di Dio Dove sta? Eccolo qui Guardate un po' quanto costa E in più richiede 300 pflop Pari quasi a un mega SMG se non sbaglio Anzi no, il mega laser, voglio dire Ne consuma 250 Questo ne consuma molti di più E adesso com'è grande Comunque voglio provarlo subito in game Sì, voglio, voglio andare in game Faccio un battle arena con questo Coso Ciao Non iscrivetevi? Boh Boh, non lo so E tentiamo la sorte Ma sicuramente nessuno Avrà fatto l'aereo Sono tutti con anti-aerei Puoi ci commettere? Perché è uscito adesso Il nuovo aggiornamento Che adesso non ricordo bene come si chiama Mi sembra Flick Flying Boh, non mi ricordo Comunque L'aggiornamento anti-aereo Adesso giustamente con questa novità Tutti si sono costruiti l'anti-aereo E non ci sarà nessun aereo Ecco, vedete questo? Anche lui ne ha costruiti Ah, ne ha messi tre addirittura Io non ho idea Qualcuno c'è con l'aereo? C'è... Forse non si rendono conto Dove stiamo andando? Andiamo di là Sì, adesso le ruote sgommano pure Oh, già stanno sparando Voglio testare Voglio vedere come succede Quando incontri l'aereo Ah, hanno detto che hanno anche diminuito la nebbia In modo da poter sparare i nemici anche più lontano Eccolo Però non vedo Chissà quanta efficacia Giustamente possiamo sparare anche quelli da terra Però da quello che ho capito Che è meno efficacia Ok, già Dai, curati, curati Aereo No, è caduto a terra Eh, guardate come esplode Guardate, guardate Funziona Così adesso la finiranno quelli Quei cosi brutti che Bam Distrutto Mamma mia che potenza Mi piace tantissimo Adesso tutti quelli che hanno fatto i thruster Che facevano i thruster Se la prenderanno un po' dentro All'ano Guardate, guardate come esplode in aria Che figaggine Però Quasi quasi vorrei costruirmi Un aereo per vedere l'effetto che fa Quando si sparano con questi Fighissimo Vai Bam Bam Esplosioni multiple Esplosioni multiple Che peccato che quando cade a terra Non esplode più Boom 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 Vai Distrutto Overclock 5 Però la G-Signal sono pochissime efficaci Contro Quelli di terra Oh cacchio Cecchino 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 Vaffan triple L'hanno fatto Cecchino Sei sempre tu Quello che rompe le scala Però è grandissimo Quando colpisci aereo Hai visto come esplodono Ci sono Chissà se lo possiamo mettere su un elicottero Diciamo fare un antiaereo Con questi A forma di elicottero Non lo so Voglio provare Eccolo lì in altro Boom Distrutto Oppure due antiaereo Che colpiscono lo stesso aereo Ah lui si era fermato per curarsi Giustamente Quello non lo possiamo colpire Vai esplodi Bombe Dobbiamo cercare giustamente Di 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 Intuire la traiettoria Ecco Non mi veniva il nome Dai 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 Giro Giro Boom Distrutto Esplosione multiple Bam Oh cacchio Mi ha preso di mira giustamente Ci ha messo passo Perché gli darò tanto fastidio Adesso che sei qui con i traster Ormai per voi è finita Guardate che esplosioni Bam Boom Guarda Guarda che esplosioni Che gli fa Lui giustamente Ne ha messi tre Un po' più forte Però Dai che bello Pure io sono Vel'clock set Anche come quello Che ne ha Ne ha tre Di Antiaerei Io ne ho solo due E sono allo stesso livello Bam Colpito Bam Distrutto Ho il cecchino Oddio Cecchino Bastardo Mi volevo riparare Per poi curarmi Questo non ho sparato Ce l'hanno proprio con noi Oh questi Dai muoviti a sponare Abbiamo anche due tower Quindi C'è anche l'overclock Buffer Buffer Bellissimo Bellissimo Grandissimo Bell'aggiornamento Dai Qualcosa di nuovo Ci voleva Ho pensato Però Sai che potrebbero fare Oltre a questo qui Antiaereo Adesso A mettere dei Dei missi Lancia missili O dei mortai Che ne so Che si attivano Durante qualcosa Vai esplodi Esplodi Oddio Oddio Siamo morti Lo sapevo Uh c'è l'elicottero Per caso che sono morto Però guarda L'ho ridotto male Non può camminare più No No Non me lo uccidere L'elicottero Lo ucciderio Devi sparare un po' più avanti Devi seguire la traiettoria Vedi che ti stanno distruggendo Però effettivamente Come ho fatto questo Ho messo giusto Dei cubi E tre anterei Pure E' fatto bene Però magari Mettere un po' più rialzato Vai Ci sono Ti do una mano No Dobbiamo andare dall'altro lato Sono overclockotto Basta che mi spottano i nemici Però Ah non li vedo Mi hanno spottato No Non cadere giù Mi sa che sto cadendo giù Però non lo so No Sto sotto sopra Stanno arrivando anche le plasmate Girati Girati Non vedo più il nemico Lì Oh cacchio Cerchiamo di non farci colpire Cacchio Sto cecchino Di merda Ma Guarda Non li sopporto Perché si mettono qua I cecchini E questo fanno Della loro vita Non la so Oh dai ragazzi Diamoci una mossa Hanno preso due funghi Questa Dove cacchio va Con questi quattro cose Qua Ci dobbiamo dare una mossa Dobbiamo sbligarci Ok ci rischiamo Ci rischiamo Spare un po' più avanti Boom Boom Stiamo colpendo Però purtroppo Andando dietro la montagna Purtroppo Vai che lo colpiamo Di nuovo Un po' più avanti Un po' più avanti Ancora Abbiamo buttato L'altra tower Ragazzi Se non vi muovete Perdiamo qua Ecco Bella Non abbiamo più Le protezioni Ci sono Ci sono Vai che ti butto giù Vai stai fermo Bello così Vai stai fermo così Mamma L'ho mezzo distrutto però Non si riesce ancora No dai non possiamo perdere così Bene Bene A te catturato A base Vai 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 Buttalo giù Però quando è a terra Doveva finire qualcun altro Perché non funziona Il fatto che Ottimo Ce l'abbiamo fatta Però Dovrebbero Magari sistemare Non so Che se uno è un aereo Viene identificato come aereo Anche quanto sta a terra O no Dovrebbe fare tipo Una cosa del genere Credo Ok Non vedo aerei Noi siamo overclock Dice adesso Oddio Troppo debole però Perché per mettere Che cose Puoi mettere Solo pochi cubi Io ho costruito un bel robot Bello pieno Di cubi Falti Però posso andare a vedere Quello che consuma un sacco di cpu Quindi ho dovuto smontarlo E farlo un po' più arrangiato Vai abbiamo tutte le tower Eh si vabbè Quello è un altro antiaerei Io però Non posso competere Con tutti loro E mi butto giù Boom Abbiamo Overclockato Ah non ci arrivano Ah vogliono catturare questa tower Però c'è un smg lì Che mi farà sicuramente male Ma tanto male Chi è che mi spara Oh però Sembra che fa poco male Ma in realtà Oddio Scappa Forse perché siamo entrati Overclock Però l'abbiamo ridotto Abbastanza male No stanno riprendendo Di nuovo le tower Vai cecchino Finiscilo Non volare però Bello Ti è lanciato proprio Ok un elicottero Ah cacchio Ah meno male Che ci sta questo Bella ragazzi L'avete distrutto Ah non abbiamo più L'ecobusto Ok 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 Vai Colpito È affondato Eh non puoi volare Quanto ci sono io Boom Boom Distrutto anche questo Boom Distrutto anche questo Ah l'elicottero Cosa vorresti fare Oh più di qua Più avanti Più avanti Più avanti Oddio Sto cecchino Di cacca Ok dai ripariamoci Ottimo Siamo di nuovo Operativi Vediamo Eccolo lì Ah cazzarola Si è buttato giù Ma noi lo potremo colpire Anche da qua Eccolo lì Ah Non riesco a colpire L'elicottero Mi ha spostato Lo so Sono sicuro Che è lui Che mi ha spostato Infatti mi sta sparando E cade giù Spottiamolo No non lo riesco a colpire Si abbassa subito Perché non vuole essere colpito Intanto questo cecchino Qui so Vai Hai pensato di volare Boom 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 Cerchiamo di colpire La loro bassa Che non hanno protezione Adesso Vai All'attacco Curati No Siamo al 100% Curate adesso Cazzarola No 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 Via 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 Ah Mamma mia Guarda che quando ci arrivano i colpi Boom boom Vedete la Ah Peccato Stanno facendo fuori E' morto Ottimo Abbiamo catturato Una di nuovo La torri Tutte e tre le torri Bravi ragazzi Dai Io adesso vi proteggerò Da Siamo Siamo overclock 13 Non me ne so accorto Aumentiamo in una maniera esponenziale Eccolo Boom boom Tu stai là in alto E muori Grande ragazzi Abbiamo di nuovo tutte le tower Allora Giro Vediamo un po' di qua Eccolo Cazzarola Continuiamo Eccolo lì in alto Che vuole Prendere questo fungo Non te lo farò mai Prendere Devi scappare da me Boom Distrutto Ops Arrivando uno qui Aiutatemi ragazzi Ah no E' un aereo E allora è roba mia Guarda come volo a basso Guarda il bastardo Sgomma Sa qui sopra Vuole nascondersi Ma io lo so che faccio Bravo il cecchino Vai Mi metto qua Oh cacchio Qualcuno mi ha colpito Il cecchino Stato di cecchino Vai curati Ottimo Boom 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 Distrutto Vai Vittoria Grandissima partita Bellissimo Bellissimo Quest'arma Bellissima Quest'arma Davvero Fighissima Vediamo come scorro Primo posto Amici 12 kill Ma è successo In vita mia Dove aver fatto 12 kill Sono morto 10 volte 9 assist Ma è davvero figo Avete finito Con questi Traster Che facevano solo I nervosire Adesso Devete fare qualcosa Anche per Distruggere i cecchini Perché non le so a parto Qualcosa anti cecchino Tipo Lancia razzi Che seguono I cecchini Cioè tu stai fermo Boom Ti colpisce E ti distrugge Capito Qualcosa del genere Che tu miri quella persona Magari ci mette Tipo 5 secondi Tipo Lo mira Tipo un mortaio E lancia il missile Se lui Sta fermo Lo one shot Tipo una cosa del genere Insomma sarebbe strafigo Perché c'è chi non sta fermo Che sta lì Che Sarebbe figo Secondo me si Comunque ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Io intanto Mi ci metto A costruire Qualcosa di migliore Magari come a fare Qualcosa un po' più bello Farlo over O voglio vedere Se le posso fare volante Chissà Non lo so Volante Cosotto anti aerei Che vola contro gli aerei Che distrugge gli aerei Cioè Insomma sarebbe una cosa Però Sarebbe un po' un controsenso Perché poi Qualcun altro che c'ha Un anti aerei Ti distriggerrebbe subito Quindi Io vi ringrazio di nuovo Per la visione Invito a come sempre Di iscrivervi al canale A pagina facebook A quella di google plus Da zerk E tutto Ci vediamo In un prossimo video Ciao ragazzi